ben jacobs finalmente smentisce l'ennesima fake news sull'inter altani non è minimamente interessato all'inter c'era il biondino lì finlandese che vuole fare ordata a 1000 euro e vuole uno che metta 10 10 miliardi per comprare l'inter subito ora facciamo cordata altani gli ha scritto su twitter visto che sembra abbiano rinuncia abbiano rinunciato al manchester united altani non è minimamente interessato all'inter per chi non conoscesse ben jacobs giornalista politico americano se andasse ad informare chi è ne ha prese tantissime soprattutto su pif in acquisizione newcastle e quant'altro è uno molto ma molto ma molto informato quindi finita anche la telenovela altani inter per chi diceva che l'inter sarebbe diventata catariota io continuo a dirvi sempre ragazzi perché vi voglio bene siamo tutti interisti la stessa cosa mettetevi l'anima in pace altani via anche altani ziliacus ha visto su twitter dai facciamo cordata prendiamoci l'inter sai non smette di falsi pubblicità con l'inter i biondini i finlandesi è tremendo ascolta ziliacus te l'unica cosa puoi comprare è una discoteca non l'inter forse non ci siamo capiti ancora per quello che riguarda i cardi le parole di marotta ragazzi sono fortissime cioè meglio i cardi di lukaku c'era la possibilità di riprenderlo quest'estate e allora marotta perché tu l'ha ripreso quest'estate poi sicuramente avrebbe fatto girare le scatole a tutti anche lui ha fatto casino non ha lasciato un bel ricordo ma hai preso lukaku hai preso sanchez hai preso arnautovic hai preso 47 attaccanti e nemmeno uno buono alla fine se abbiamo ingoiato quadrado potevamo ingoiare anche i cardi che dici per il bene dell'inter ti sto dicendo attenzione per il bene dell'inter potevamo riprenderci i cardi e mettere da parte un attimino l'astio come abbiamo fatto con il ricciolino lì che giocava alla juve con il numero 7 ma di cosa ragioniamo quindi altani via anche lui sfogliamo la margherita è rimasto un petalo solo è rimasto un petalo solo discorso di antonello sullo stadio la soluzione più veloce quale sarà secondo te la soluzione più veloce è san silo oppure tutto quel bordello che succederebbe lì a rozziano per la viabilità cioè dovrebbero fare una secondata agenziale un bordello quindi se non rompono le scatole con questo vincolo e ad oggi non esiste perché ad oggi non esiste nessun vincolo perché dovrebbe partire da 2025 la soluzione più veloce non serve una laurea per capirlo e san silo quindi se non gli mettono i bastoni tra le ruote l'inter rimarrà a san silo se poi gli fanno girare le scatole potrebbero prendere in esame un'altra soluzione ma ti ripeto il piano a per l'inter e di maniere a san silo ti faccio un esempio il bernabeu il real madrid aveva problemi a comprare un altro stadio a far scusami a farsi un altro stadio perché ha ristrutturato il bernabeu immagine prestigio stesso discorso per l'inter un conto di giocare a milano conto di giocare a rozzano milano prestigio monumento storico ristrutturato real madrid ha fatto la stessa cosa vuole fare l'inter iscrivetevi al canale attivate la pannellina perché a breve ci si diverte ciao inter al tani itani un mio amico di firenze si chiama tani francesco itani non al tani